e salvera che bentornati sul mio canale sono grinnandiraparisi97 e siamo qui con un ennesimo musical video prima di iniziare il video il video vi invito a lasciare un like e non perdiamoci chiacchiere continuiamo bene quest'oggi siamo qui con un nuovo video di strumenti musicali strani o stranieri autocostruiti e non e quest'oggi siamo qui con la charamella scusate un attimo quest'oggi dunque vi presento la charamella uno strumento molto antico che viene suonato di solito insieme alla zampogna scusate il disordine che ho proprio alle mie spalle bene ringrazio il signor ranieri che mi ha consigliato questo strumento pure se lo sono già nel video precedente ti saluto signor ranieri spero che tu sia bene grazie di questo suggerimento ragazzi continuate a suggerirmi strumenti musicali strani e bastardi che abbia mai suonato e vedrò io quale quale suonare quale quale posso facilmente trovare posso valutare io vabbè ma sti cazzi cominciamo a suonare a 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 bella din din io vi saluto e vi abbraccio e tanti saluti ragazzi bye bye